Dal campo alla cucina, maneggiando verdure al posto della palla ovale, montando creme invece che tuffarsi in mischia, è quanto accaduto all'apertura della Settimana Neroverde, organizzata dall'Aquila Rugby Club in collaborazione con Gusto, in occasione degli 80 anni della nascita del rugby in Abruzzo. L'evento ha segnato il fischio d'inizio della settimana, che terminerà venerdì 16 ottobre, e che vedrà tutte le sere dalle 19.30 gli atleti dell'Aquila Rugby vestire inusualmente giacche da chef. Per l'occasione la chef Nadia Moscardi e il maestro pasticcere Sandro Ferretti hanno rispettivamente reinterpretato il menù della tradizione del terzo tempo regbistico, ideato un dessè dedicato. Il pubblico, molto divertito dalla performance dei giovani regbisti, ne ha apprezzato l'ironia e la capacità di mettersi in gioco. È stata una bellissima serata, hanno evidenziato gli atleti Neroverdi, Vittorio Flammini e Niccolò Speranza. Speriamo di aver avvicinato il pubblico al mondo del rugby con questo terzo tempo particolare e divertente. Lavoreremo a turno, dietro il bancone, a cucinare un entrè e un dolce alla fine. Abbiamo fatto una settimana a Neroverde in cui ci divertiremo noi a cucinare per passare anche un pochino di tempo insieme ai tifosi che hanno voglia di venire qui e gustare quello che noi prepariamo.